Ciao, che cos'hai? Sono nei guai, a volte uno parla a sproposito e ficca il naso dove non dovrebbe. Ma è colpa mia se ci sono tutti questi problemi con Molina. Che cosa è successo? Niente, solo che io sapevo dove si era nascosto con Enrica. E? E l'ho detto, non per denunciarlo, senza nessuna cattiveria, l'ho semplicemente raccontato a Eleonora e sembra che sia scappato di bocca anche a lei. Ed ora quelli del governo sanno dove si nasconde e possono arrestarlo. Qual è il problema? Il problema è che io sono nei guai fino al collo, capisci? Perché gli uomini di Molina avranno già saputo che sono stata io a denunciarlo. Lui ha giurato che me l'avrebbe fatta pagare. Ho una paura terribile della sua vendetta. Perché se quell'uomo dice una cosa, stai certo che prima o poi la farà. Ed io lo so, ne sono sicura che questa storia non finirà così. Io lo sento che mi succederà presto qualche cosa. Ma che dici, Elisa? Quell'uomo è un criminale. È un assassino. Non capisco come tu possa parlare così del capo dei servizi segreti di Isola Caraibi, di uno che lavorava per tuo padre, una persona che stava sempre a casa tua, un intimo amico di tua madre alla quale faceva sempre dei favori. Piantala! Mi vergogno di quello che è successo. Lo vuoi capire che quel maledetto animale ha torturato Marina? L'ha tenuta prigioniera nella fortezza, infliggendole il peggior sopruso che una donna possa mai subire da un uomo. Quel porco disgraziato ha osato metterle le mani addosso. Chiaro. Io avrei dovuto denunciarlo solamente per aver messo le mani addosso alla tua preziosa Marina. Sai che cosa ti dico? Che sono anni che ti sento parlare solo di lei e io sono stanca, non ce la faccio più. Ma che cosa? Che cosa ha quella donna che non ho io? Mi ha distrutto l'esistenza! Come sarebbe a dire che Marina stava proteggendo quell'uomo? Ti ripeto che come ti ho detto Enrico, ti giuro, era lei che gli portava sempre da mangiare. Quel signore si tranquillizzava tanto non appena vedeva arrivare quella ragazza. Immagina, per farti capire quanto era pazzo, non faceva altro che chiamarla Marilena. Ripeteva che era sua moglie e Marina era così comprensiva che gli dava sempre ragione. Si comportava come se fossero sposati da chissà quanto tempo. Io addirittura ad un certo punto ho creduto che fosse vero, talmente faceva bene la parte. Vi giuro che sembravano proprio due sposi. È davvero una brava ragazza quella. Ines, non credi che si stia facendo tardi? Non dimenticarti che le corriere passano solo fino a una certa ora, no? Santo cielo, che testa che ho! A forza di stare qui a chiacchierare con voi me ne ero quasi dimenticata. Allora io vado. Ciao Enrico, ci vediamo. Accompagni. Sì, sì, sì. Potresti fermarti ancora un po'. Vorrei discutere di alcune cose con te. Possiamo bere qualcosa? Ah, bene, quando è così io vado da sola. Ciao. Ci vediamo domani. A buon viaggio. Ti ringrazio. Ciao. Ciao. Siedi pure. Innamorato io? Credo di sì. Tu sei innamorato pazzo di Marina Contredi. Si parla sempre d'amore quando si beve troppo. Senti Enrico, non sono nato ieri. Si vede subito. Sì, è vero. Sono innamorato di lei. Non so che farci. Dai, retta me, amico mio. Ti sei cacciato in un pasticcio terribile, perché sono come due poli elettrici opposti. Tu lo sai che Tania è innamorata di te. Lascia che ti racconti una cosa. L'altro giorno Tania e Marina hanno avuto una discussione negli uffici lì al centro d'assistenza, che insomma, beh, immagina, sembra che sia stato per un pettegolezzo su di te e Tania. Almeno credo, non ne sono molto sicuro, però è certo che sono quasi arrivata al punto di picchiarsi. Tania ha un brutto carattere, vero? Senti, non la conosco, però non credo. Quello che penso è che lei deve avere avuto un passato molto difficile. Ma dietro a questo suo carattere duro c'è una donna dolce, piena di paure. Ah, certo, per essere testarda è testarda. Su questo non ho alcun dubbio. Quando si innamora di una persona è la figlia. E tu sei la persona su cui si è fissata quella ragazza. Non posso farci niente. E invece Marina... Eh già, Marina è ben diversa. A me sembra che sia una donna talmente buona, affettuosa... Non crederlo, Ugo. A me ha fatto molto male. Non puoi immaginare quanto. Però è vero. Non riesco a dimenticarla. Io l'amo profondamente.